Il presidente Bush è paragonato al capitano Kirk di Star Trek, perché dietro i successi di entrambi c'è sempre qualcun altro. Il commento viene da un computer del New York Times, mentre dalla Reuters qualcuno ritiene Bush colpevole di omicidi di massa. Siamo sull'enciclopedia più grande del mondo, multilingue e accessibile online da ogni parte del globo. Wikipedia, un gigantesco contenitore aggiornato dagli utenti stessi, che ne diventano autori a pieno titolo. Anonimi almeno fino a ieri, Virgil Griffith, uno studente del California Institute of Technology, si è infatti inventato un software in grado di scannerizzare i contenuti di Wikipedia, svelando l'IP, cioè l'indirizzo telematico del computer che ha effettuato ciascuna modifica. Si scopre così che la CIA si è preoccupata di ritoccare la biografia del presidente iraniano Ahmadinejad e che dal Vaticano qualcuno ha asciugato alcune informazioni su Jerry Adams, leader del movimento indipendentista irlandese Sinn Féin. L'FBI cancella le immagini aeree del carcere di Guantanamo, mentre qualcuno da Al Jazeera scrive che gli ebrei hanno fatto ai palestinesi ciò che Hitler ha fatto a loro. Poi illustri aziende, tra cui la Microsoft e l'Apple, impegnate a farsi una concorrenza non proprio leale. Infine la battaglia politica, che negli USA si combatte anche a colpi di mouse. La natura aperta di Wikipedia lascia spazio a tutto, anche se i curatori del sito si preoccupano di rimproverare gli autori ritenuti sospetti. Certo è che la scoperta demolisce un mito, quello dell'attendibilità delle informazioni che viaggiano su internet, dove regna incontrastata la libertà d'opinione.